Buongiorno a tutti, oggi sono su un altro cantiere, eccolo qua alle mie spalle, un'altra scuola, la scuola media Forlanini, finanziata grazie a un ulteriore contributo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Anche in questo caso l'obiettivo prioritario è rendere la scuola sicura e confortevole per i nostri figli. Questo insieme a quello dell'asilo Nido Savona che visiterò nelle prossime settimane, il cantiere PNRR più recente perché è stato avviato a novembre del 2023. I lavori di appalto ammontano a circa 2 milioni e mezzo di euro e prevedono la riqualificazione complessiva dell'edificio con l'adeguamento sismico, statico e impiantistico elettrico. Anche l'esterno sarà riqualificato grazie al posizionamento sulle superfici di pannelli isolanti in lana di roccia. È previsto inoltre l'adeguamento sismico del corpo palestra con il rifacimento del solaio di copertura. Questi lavori fino ad oggi hanno riguardato l'allestimento del cantiere, la formazione delle palificazioni che serviranno a formare tutto il rinforzo delle fondamenta fino al tetto per rendere l'edificio antisismico. La conclusione sarà prevista per marzo del 2026. Vi do appuntamento al prossimo cantiere.